Io penso che il sindacato debba essere autonomo dalla politica, dai partiti, dai governi. Non indifferente, ma deve essere autonomo perché noi dobbiamo rappresentare tutte le persone che lavorano e le nostre proposte le vogliamo costruire assieme alle persone che rappresentiamo. Oggi penso che siamo di fronte ad un elemento di novità, e cioè ragioni di appartenenza partitico-politica che in passato hanno portato anche una divisione dei sindacati. Io oggi non ne vedo più neanche una. Oggi io da un certo punto di vista sento ancora di più la necessità di ricostruire una nuova unità sindacale, che vuol dire una nuova unità del mondo del lavoro.